siamo venuti per adorarlo così dicevano i magi nell'avvicinarsi a betlemme nel voler adorare il re che è nato e della cui presenza ha avvisato nei cieli la stella ecco carissimi ci avviciniamo alla solennità dell'epifania del signore epifania significa manifestazioni per il fatto stesso che gesù è nato che dio si è fatto uomo ecco lui il signore del cielo e della terra il dio della vita si è manifestato in una forma del tutto particolare si è reso conoscibile e quindi l'uomo lo ha potuto incontrare ed è per questo che la liturgia da a degli eventi speciali che hanno a che fare con gesù che inizia a farsi conoscere ecco da alcuni eventi speciali la caratteristica di epifania ad esempio se noi prendiamo alcuni testi della liturgia delle ore troveremo scritto che il battesimo del signore è stato un evento di manifestazione di lui infatti ecco quello è stata una grande manifestazione ecco attestata dalla voce che si è udita dalla presenza dello spirito che scende e riposa sul signore così come pure nella liturgia troviamo la caratteristica di manifestazione ecco attribuita anche alle nozze di cana che dal vangelo di giovanni vengono indicate come il primo dei segni che Gesù compie attraverso il quale Gesù manifesta la sua gloria i discepoli credono in lui naturalmente sappiamo che il 6 gennaio di ogni anno però è un altro l'evento al quale in modo particolare viene attribuita questa caratteristica di manifestazione ancor più degli altri cioè quello della visita dei magi i magi infatti non fanno parte del popolo di israele sono venuti dall'oriente quindi significa che questa conoscenza di Gesù che non è semplicemente un sapere che c'è ma una conoscenza che porta alla salvezza è per tutti i popoli Cristo è il re dei re è il re di tutti i popoli la sua salvezza è per tutte le genti e tutte le genti possono avvicinarsi a lui è vero tante persone nella vita sono in ricerca senza questo senso di ricerca davvero riesce difficile capire come si può entrare in contatto con questa salvezza che viene dal Signore anche se ce lo dicono e ce lo ripetono nei momenti in cui non abbiamo davvero questo senso questo bisogno di ricerca della verità della bellezza della giustizia ecco in qualche modo il Signore in quei momenti rimane un poco lontano e le sue frasi le sue parole rimangono un poco lontane dalla nostra vita invece il metterci alla ricerca una ricerca a volte anche innescata dall'osservazione del mondo dall'osservazione della storia dall'osservazione anche della natura come è successo per i magi ecco ci può mettere in una dinamica positiva che rende il nostro cuore maggiormente aperto per ricevere questo grande mistero di amore questo grande mistero di un dio che non è un esattore delle tasse non è uno che viene a togliere qualcosa all'uomo ma si dona e il suo dono è talmente grande da farsi un uomo da donare tutta la sua vita ecco infatti non a caso nella liturgia dell'epifania e subito dopo il vangelo è normale che si annunci quale sia il giorno di pasqua questa luce di questa manifestazione del Signore in qualche modo rappresentata anche dalla luce della stella seguita dai magi è l'anticipo della luce pasquale della luce della vittoria definitiva sul peccato e sulla morte ecco Gesù non si trova nei palazzi dei re come spesso non si trova non troviamo Gesù laddove ci sembra essere la nostra comodità laddove sembrano essere le nostre zone di comfort eppure di Gesù e verso Gesù ci portano le scritture e i suoi insegnamenti è vero queste persone che svelano ai magi dove è Gesù da una parte dicono una cosa vera perché è vero che Gesù sarebbe secondo le profezie nato a Betlemme e da Betlemme è effettivamente nato ma dall'altra parte sembra che questi sapienti che spiegano ai magi dov'è il salvatore che è nato e poi sembra che non vadano davvero ad adorarlo tanto meno erode insomma intenzione di farlo questo ci può far riflettere sul fatto che davvero nella scrittura anche negli insegnamenti della chiesa c'è una segnaletica molto importante che vale la pena seguire con la propria vita per farne esperienza diretta nel proprio cuore e nella propria mente nelle proprie forze nella propria sensibilità nella propria storia che è vero quello che viene attestato da questi insegnamenti certo magari i magi avrebbero potuto dire chissà conoscendo meglio questi sapienti che non sarebbero andati ad adorare Gesù avrebbero potuto dire ma quali falsità ci state dicendo ecco voi non ci andate voi non ci andrete ad adorare il signore eppure a volte ecco degli insegnamenti dei segnali importanti possono venire alla nostra vita attraverso persone che non sono gradevoli che non ci sanno non ci stanno simpatiche che ci sembrano anche incoerenti in quello che dicono ma nella misura in cui davvero annunciano la parola del signore il suo insegnamento in qualche modo il signore si può servire anche della presenza di queste persone come una segnaletica verso di lui è qualcosa che magari non ci piace molto ma che in realtà succede come è successo per i magi sappiamo del significato di questi doni che portano i santi magi e noi desideriamo anche riconoscere Gesù come nostro re come nostro dio come vero uomo desideriamo riconoscere il suo mistero di gloria il suo mistero di umiltà allo stesso tempo come lo possiamo riconoscere beh donando tutto noi stessi al signore le nostre priorità nel nostro modo di gestire il tempo di gestire i nostri beni materiali i nostri affetti le nostre occupazioni ecco nel modo di vivere l'amore verso il prossimo così possiamo davvero rendere questa adorazione al signore e rendere questa adorazione non ci toglierà nulla ne farà il signore più grande ma ci aiuterà a scoprire qual è il senso e qual è la bellezza nell'esercizio della nostra libertà buona epifania a tutti